È una calda mattinata di luglio e il sole è alto sull'antica terra della libertà. 1500 fanti e 300 cavalieri varcano i confini dello Stato. Sono demotivati sfiancati dalla fuga. Alle loro calcagna incalzano le truppe francesi e austriache, feroci come lupi a caccia. La preda è il generale alla testa dell'armata mal ridotta, il grande condottiero Giuseppe Garibaldi. Due giorni prima, al messo di Garibaldi, Ugo Bassi, era stato negato l'accesso nell'antica terra in cui egli sperava di trovare rifugio. La situazione è disperata, non c'è alternativa. Valicare il confine ed entrare nella più antica repubblica al mondo. Ore 9 del mattino Garibaldi sale in tutta fretta verso la capitale. I suoi si accampano alla Bellemeglio in città, sullo stradone e in borgo. Ad attenderlo, nei suoi uffici, c'è il reggente. Domenico Maria Belzoppi Garibaldi spiega che non c'era alcuna possibilità di evitare questa critica situazione. Le truppe erano sfinite e i nemici pericolosamente vicini. Belzoppi comprende, assicura il suo aiuto e il soccorso del suo stato, ma chiede assolutamente che vengano evitati i rischi per il suo popolo. Il generale annuisce, si rega presso il convento dei Cappuccini, mangia qualcosa e dichiara sciolte le truppe che tanti pericoli avevano affrontato in quegli anni davvero turbolenti. Ed è così che in quel 31 luglio del 1849 si intrecciano le storie di uno dei più grandi condottieri italici e quelle della piccola Repubblica di San Marino. Ma per comprendere come si è arrivati a questo, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare i primi anni di quell'Ottocento davvero turbolento e burrascoso. Ben ritrovati amici della Flanella, come sempre vi aspetto dopo la sigla! Sigla! Delirante voce narrante prestata al nobile servizio della divulgazione storica. Sono Giuseppe Giardi, benvenuti e benvenuti su Storium Flanella. E se burrascoso fu l'Ottocento san marinese lo sono stati anche gli ultimi mesi per la redazione di Sif. È effettivamente un po' che non ci si sente su questi schermi, quindi prima di iniziare vi racconto un paio di progetti, avvenuti negli ultimi tempi, che ci hanno tenuti belli impegnati. In ordine cronologico e perfettamente pertinente con i nostri discorsi odierni, abbiamo lavorato alla realizzazione della mostra su Quel Domenico Maria Belzoppi, di cui vi ho parlato nell'intro. La mostra che si trova a Palazzo Pubblico è a cura degli istituti culturali, archivio e biblioteca di Stato ed è aperta alla visita fino al 6 settembre. Quando entrate sulla sinistra trovate un QR code, lo potrete inquadrare, e grazie alle diavolerie della moderna tecnologia troverete sul vostro smartphone l'audioguida alla mostra, in italiano e in inglese, interamente a marchio Storia in Flanella. Dovereste conoscere quasi tutte le voci narranti dell'audioguida italiana perché sono stati quasi tutti i nostri ospiti. La versione inglese invece è a cura di traduttrici o docenti di lingua che hanno fatto un lavoro straordinario per rendere fruibile a tutti i nostri testi. Quindi di nuovo un grandissimo grazie anche a loro e andate a Palazzo perché la mostra merita tantissimo. Oltre a questo, la redazione più inflanellata della Repubblica ha collaborato alla realizzazione di un nuovo podcast bianco-azzurro, lo Yuscast, il podcast dell'associazione Yus. Vi lasciamo tutti i link nella descrizione, la prima stagione è già online e a breve arriveranno altre novità, quindi state sintonizzatissimi anche con quel canale. And last but not least, nel corso dell'episodio di oggi come sempre farò riferimento a diversi libri o articoli di studiosi della nostra storia. Dove è possibile inserisco il link al paper discusso, ma alle volte si parla di volumi fisici non consultabili online. Come fare dunque per reperire il materiale? Per la consultazione ovviamente abbiamo la nostra biblioteca di Stato fornitissima, ma per chi volesse trovare qualche pezzo da novanta di storiografia sanmarinese vi consiglio un luogo meraviglioso dove fare incetta di libri e oggettistica legata al titano. Forse lo conoscete per altre tipologie di prodotti, ma al centro del riuso sanmarino che, udite udite, da oggi sponsorizza il podcast di SIF, trovate una valanga di materiale interessantissimo. Come funziona il riuso? Alessandro e i suoi fanno uno splendido lavoro, danno una seconda vita all'usato, raccolgono i vostri oggetti, vi svuotano la cantina, la soffitta, l'ufficio, sistemano il sistemabile e lo rendono disponibile all'acquisto per altri. Insomma è un esempio virtuoso di economia circolare. Ma veniamo a noi perché il riuso ha al suo interno una fantastica sala interamente dedicata alla nostra storia. Io ho trovato diversi volumi che mi sono stati davvero utili nella creazione di questo podcast, quindi vi consiglio davvero di farci un salto e ringrazio di cuore tutto il team del riuso per il lavoro prezioso che fanno e per essere i primi sponsor del nostro podcast. Per gli ascoltatori di SIF c'è un incredibile sconto del 10% con il codice SIF10. No, questo non è vero in realtà perché al riuso si compra con un'offerta libera, ma ditegli che vi mandiamo noi e sicuramente avranno qualche volume spettacolare da consigliarvi. Direi che è tutto, Luca, catapultiamoci nell'Ottocento San Marinese. Se dovessimo definire con un motto la politica estera san marinese fino agli inizi del XIX secolo, si potrebbe tranquillamente utilizzare il ben noto adagio Noti a noi, ignoti agli altri. Un detto che sia tramandato oralmente e che rispecchia fedelmente l'idea di una San Marino per niente protesa verso il mondo esterno, anzi ben interessata a mantenersi bella serena nei propri confini, evitando situazioni spiacevoli e cercando di arginare le sempre presenti fantasie dello Stato della Chiesa che, vedremo, non mancheranno nemmeno in questo episodio. Ecco, questa tendenza alla autoconservazione pacifica, potremmo definirla così, muta con l'inizio del 1800, grazie a una serie di modifiche che cambiano il nostro piccolo Stato. La prima modifica è di tipo demografico. Noi oggi siamo circa 33.000 anime ad abitare questo piccolo angolino della penisola. Ecco, considerate che nel 1700 si stima che la popolazione fosse di circa 3.000 persone. Nell'800 inizia un vertiginoso aumento demografico che porta la comunità san marinese a quota 7.080 individui. Nel 1865, data precisa perché è la data del primo censimento san marinese. I motivi di questo aumento demografico furono molteplici. Miglioramenti nell'alimentazione, nelle conoscenze scientifiche, una diminuzione delle malattie mortali e probabilmente un iniziale afflusso di migranti che però abbiamo ragione di credere si fece un pochino più consistente verso la seconda metà del secolo. Quando San Marino iniziò a mettere mano alle vecchie infrastrutture e ai nuovi edifici. In particolare uno caratteristico, ma non voglio fare degli spoileroni delle prossime puntate quindi andiamo un passo alla volta. Chiaramente avere più abitanti significa anche doversi interfacciare con un maggior numero di bocche da sfamare. La comunità, da sempre basata sull'agricoltura, dovette affrontare la necessità di aumentare la produttività dei campi. Fu addirittura chiamato dalle autorità san marinesi uno specialista, una batte che si chiamava Domenico Mengozzi, che aveva studiato legge a Fermo e a Roma e che doveva redare per San Marino un nuovo statuto agrario perché la situazione agricola del Titano era praticamente disastrosa. Cito un documento di qualche anno dopo che dà un pochino il quadro e dice San Marino era un territorio molto calanchivo, tecniche di coltivazione obsolete, poco produttive, estrema frammentarietà delle proprietà terriere, una generale situazione economica miseranda, l'assenza di una classe sociale protoborghese in grado di fornire impulsi verso investimenti maggiormente redditizi, possidenti che sapevano solo adottare pratiche troppo radicate nel personale interesse. Insomma, come racconta questo documento del 1854 all'interno del Titano, la situazione era abbastanza disastrosa. Per i curiosi tra l'altro c'è una ristampa di questo statuto del 2019, a cura dell'associazione 25 Marzo e con un'introduzione del solito e ottimo Werther Casali. Comunque, come spesso accade, soprattutto in delle realtà che sono un pochino piccoline e abbastanza refrattare al cambiamento come la nostra, ci volerò anni prima che le norme introdotte dal Mengozi entrassero realmente in vigore. Pare che i contadini sanmarinesi fossero abbastanza attaccati al loro modo di coltivare la terra, più legato alle tradizioni e alle digerie che chiaramente alla scienza. In buona sostanza possiamo riassumere il fatto con un Facciamo così perché si è sempre fatto così, che è uno degli slogan che per certi versi rimane tuttora abbastanza attuale. Oltre al settore agricolo ci furono tentativi di svecchiamento anche del sistema scolastico, del sistema giudiziario e delle infrastrutture. Nel concreto però non ci furono delle svolte significative, anche perché la politica doveva rapportarsi con una situazione economica che, dir non semplice, è un eufemismo. I fondi scarseggiavano, il titano era una realtà essenzialmente davvero povera. Nonostante però le difficoltà economiche e la resistenza al cambiamento, il primo 800 vide l'introduzione di alcune importanti novità. Tra queste ci fu la costruzione della nuova pieve, edificata in stile neoclassico tra il 1825 e il 1838 su progetto dell'architetto Antonio Serra. Qua mi fermo un attimo, perché la storia della pieve, che tuttora con delle modifiche si staglia nel nostro centro storico, è gustosissima. Forse non è così nota come dovrebbe e ci dà anche il modo di fare un paio di considerazioni sul primo 800. Il rimando per ciò che dirò è a un agile e davvero arguto lavoro dell'architetto Renzo Broccoli, che si chiama La Nuova Pieve di San Marino. Vi lascio poi il link allo studio che è consultabile in open access. La Nuova Pieve, che d'ora in avanti chiameremo semplicemente Pieve, viene costruita al posto della vecchia, e già qui la storiografia moderna ha dibattuto aspramente sul danno storico derivato dalla distruzione della vecchia pieve. Ma non voglio entrare nel merito e stiamo un attimino nello specifico. Nel 1807, a seguito di un paio di consulenze, viene presa la decisione. La vecchia pieve va abbattuta. Un fatto interessante si abbatte, ma lo si fa senza ancora avere il progetto in mano di quella nuova. Si tira giù la vecchia e basta, perché questo è molto semplice. Come dicevo prima, mancavano i fondi. E la situazione tra l'altro dura per anni, tanto che nei verbali del consiglio del giugno 1822, troviamo scritto che la condizione è assolutamente critica, perché addirittura ci sono le ossa insepolte, cioè le ossa che precedentemente erano nella vecchia pieve, e che vengono adesso portate per le vie di città dai cani. Insomma, immaginiamo una situazione davvero tremenda per i cittadini di quel tempo. Comunque, probabilmente, alla fine, tramite un lascito, un'eredità, insomma, arrivano i primi fondi e nel luglio del 1826 fu posata la prima pietra. Come vi dicevo, il progetto fu portato avanti dall'architetto Antonio Serra. Però, e questo è un particolare rilevante, il Broccoli ci dice che la pieve era molto diversa da come la vediamo noi ora nel progetto iniziale. Se vogliamo avere un'idea di com'era, l'architetto consiglia un passaggio a Faenza, a Palazzo Milzetti. Dobbiamo infatti pensare, e cito, a un edificio arioso, elegante, chiaro, lucido. Tutte le pareti, tutte le colonne, tranne i loro basamenti in pietra e i soffitti, che sono di stucco, erano trattati a marmorino e tirati a cera caldo. Con le luci delle candele, la pieve si illuminava di uno scintillio abbagliante. Aggiungiamoci poi le durature dei candelabri, aggiungiamo gli stessi alzari laterali, il cui marmo ha la stessa tonalità dei finti marmi. L'effetto doveva essere sorprendente, come se la superficie di marmo degli altari fosse estesa a tutte le pareti. Mi ha decisamente voglia di andare a dare un'occhiata a Palazzo Milzetti, ma ad ogni modo, la storia della pieve ci dà l'aggancio giusto per parlare di un personaggio davvero fondamentale dell'Ottocento nostrano. In realtà, l'avete già conosciuto nell'episodio precedente del podcast, perché era il capitano reggente durante il periodo dei contatti con Napoleone e fu tra l'altro tra gli artefici della lettera capolavoro di Diplomazia, con la quale i sammarinesi declinarono le offerte di espansione territoriale gentilmente proposte dal buonaparte. Fatto, peraltro, fondamentale come vedremo a breve. Sto ovviamente parlando di Antonio Onofri, ma cosa c'entra Onofri con la pieve? C'entra perché è proprio Onofri a occupare lo scranno regenziale durante le prime sedute in cui si discute del futuro della pieve. Ed è lui a portare all'attenzione del Consiglio il fatto che la pieve necessita di essere ricostruita. Onofri poi non riuscirà a vedere l'edificio perché morirà nel 1825, l'anno precedente all'inizio dei lavori, ma la sua volontà verrà portata avanti dal figlio che farà parte tra l'altro della commissione incaricata di seguire i lavori. Un altro aneddoto interessante che ci dà l'idea del tempo in cui ci muoviamo. Sempre il Broccoli riporta che il Consiglio dei Sessanta, per ricordare la grande figura di Onofri, gli dedica un giorno di espiazione di grazia perpetua. In buona sostanza, per ricordarlo, viene celebrata una messa a suffragio della sua anima proprio nella pieve di cui si fece promotore. Tra l'altro, sempre in pieve, nel 1842 fu collocato un busto marmoreo che lo raffigura, chiaramente in suo onore. Ma oltre al contatto napoleonico e l'aneddotica sulla pieve, Antonio Onofri fu spesso considerato come un vero e proprio pater patrie, cioè un padre della patria. Come mai tanta enfasi, potremmo chiederci? Perché Onofri fu effettivamente un politico fondamentale per il titano. Fu un qualcosa di molto simile a un attuale segretario di Stato per gli affari esteri, il primo, in buona sostanza, della nostra storia che possiamo assimilare a questa figura. Curò infatti sempre gli interessi del titano all'esterno dei confini e fu di importanza davvero cruciale e a più riprese, soprattutto nei rapporti con lo Stato della Chiesa, con cui più volte si arrivò ai ferri corti. Nel 1824, ad esempio, Onofri andò di persona in udienza da niente po' di meno che il Papa Leone XII e tornò a casa vittorioso dal momento che il pontefice espresse la volontà di mantenere sempre un rapporto cordiale di amicizia. Vedremo in seguito che questo fatto dell'amicizia non sarà poi così rispettato qualche anno dopo, ma intanto fu una grande vittoria di Onofri e di un tale che si chiama Alessandro Savorelli che già da qualche tempo operava come agente diplomatico della Repubblica presso il Papa. L'agire dell'Onofri, per riassumere, fu sempre intelligente perché capì l'importanza di adattarsi ai cambiamenti della penisola italiana e ai mutamenti politici europei post-napoleonici. Il periodo, infatti, che segue la disfatta del Bonaparte fu un momento davvero disvolta. Dopo la sconfitta di Waterloo, Napoleone uscì di scena definitivamente e tramite il congresso di Vienna si riorganizzò, o restaurò, che dir si voglia, l'Europa. Ecco, fatto interessante, San Marino venne completamente ignorata e questo è in gran parte il frutto della lungimirante politica di qualche anno prima portata avanti proprio da Onofri stesso e di cui abbiamo discusso nella puntata precedente del podcast alla quale vi rimando assolutamente perché è una masterclass di storia sanmarinese, Converter. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a quella capacità di essere orgogliosi della propria piccolezza e evitare degli ampliamenti territoriali che avrebbero senz'altro fatto storcere il naso alle potenze restauratrici del post-Napoleone. Ma il mondo, e in particolar modo l'Italia, dopo il Bonaparte gettano il titano in un altro fenomeno incredibilmente importante legato al personaggio con cui abbiamo aperto l'episodio di oggi. Il risorgimento, cioè tutto quell'insieme di eventi culturali, militari, ideologici e sociali che portarono in buona sostanza alla nascita dello Stato italiano unitario, indipendente e governato dai Savoia. Chiaramente semplifico moltissimo. Bene, cosa succede e cosa c'entra il titano con il risorgimento? Come molti di voi sapranno, il risorgimento non è stato affatto un processo pacifico. Nel suolo italico si sono visti numerosi scontri nella descrizione dei quali ovviamente non entro per motivi di tempo ma che hanno in qualche modo coinvolto anche San Marino anche se insensolato e qui sì che entro. In buona sostanza inizia tutto con il fallimento dei moti del 1820-1821. Diversi uomini che avevano preso parte ai moti tentano di salvarsi cercando scampo sul titano. San Marino rispetto a questi combattenti si comporta in buona sostanza con tolleranza. Se i rifugiati non danno troppo fastidio vengono fatti sostare sul titano e questo per almeno tre valide ragioni. 1. Pragmaticamente il titano non disponeva di strumenti economici e umani per gestire il flusso migratorio. 2. I rifugiati solitamente ripagavano in qualche modo l'ospitalità quindi questo andava a favore di San Marino 3. Ultimo ma non per importanza una ragione ideologica Dare ospitalità a chi ne richiede è un ottimo segnale di autonomia e sovranità in campo internazionale e questo è particolarmente rilevante soprattutto in un momento in cui ancora non c'erano accordi formali a garantire la sovranità del titano. Questo occorre sempre ricordarlo. Ovviamente tutto ciò a chi dà un fastidio bestiale ai nostri secolari nemici al nostro secolare nemico, lo stato pontificio al quale questo lembo di terra indipendente con una collinetta e due montanari proprio rimane indigesto come un macigno sullo stomaco. Tra l'altro va notato che i papalini hanno anche all'interno del titano i loro accaniti sostenitori come abbiamo già visto parlando del Settecento ad esempio con la vicenda alberoniana. Da questi individui viene fatto circolare un libello violentissimo di cui cito parafrasando una parte riportata dal solito e ottimo Werther Casali con il suo gusto tipico per le chicche storiche come le chiama lui. San Marino è un nido di perversi fuggiaschi, delittuosi e ribelli, salvezza di criminali che pagano la locale autorità, dove vi era perennemente disordine nell'amministrazione pubblica, miscredenza, irreligione. San Marino dove si covano gli odi, le frodi e il malcostume, dove l'insubordinazione è la guida dei prepotenti cittadini che sotto il simbolo dell'indipendenza tramandano l'uno all'altro il comando. Alla fine del libello, riporta il Casali, si chiede semplicemente l'inglobamento del titano nello stato pontificio, che è un pensiero che doveva far proprio godere gli animi dei papalini perché nel 1834 viene pubblicato un volume intitolato, sentite il titolo, il diritto sovrano della Santa Sede sopra le valli di Comacchio e sopra la Repubblica di San Marino, nel quale lo scrittore, che si chiamava Carlo Fea, cerca di dimostrare come in realtà San Marino sia niente di più che un feudo del Papa. Insomma, la situazione si fa abbastanza fitta e come vedete il discorso autonomia e indipendenza è ancora tutto quanto in bilico. E di certo le tensioni non si affievoliscono con i moti di qualche anno dopo, 1830-31, falliscono di nuovo moti e tanti ricercati vengono a trovare nascondiglio a San Marino, soprattutto nel Borgo, che peraltro è la frazione da cui provengono alcuni giovani sanmarinesi che di loro spontanea volontà si arruolano e partecipano ai moti. In questa situazione di confusione e guerriglia, un sanmarinese viene arrestato in territorio pontificio. È il 1834. L'uomo in questione, un borghigiano, si chiama Domenico Maria Belzoppi e si dà il caso che sarà proprio lui ad essere il capitano reggente durante lo scampo garibaldino, di cui finalmente stiamo arrivando a parlare e con cui abbiamo aperto la vicenda. La vicenda del Belzoppi è una storia incredibile. Oggi ve ne parlo proprio pochissimo perché vi anticipo che sarà il protagonista del prossimo episodio, ma Luca, episodio è poco, della prossima masterclass di storia sanmarinese che si terrà nei SIF Studios. Quindi presto avremo modo di sviscerare per bene le vicende di Domenico Maria e in più c'è sempre la mostra a palazzo che vi aspetta, straordinaria, quindi andate a vederla. Dunque, dicevamo, ancora moti falliti e ancora rifugiati sul Titano, avete capito il ritornello. Ma se così già non fosse abbastanza, proseguiamo a grandissimi passi e arriviamo al momento culmine in cui il clima risorgimentale ci travolge con grande impeto e potenzialmente con davvero grande pericolosità. È il 1848 quando in Italia scoppiano rivolte tali che Papa Pio IX deve darsi alla fuga per salvarsi dall'ira del popolo. Nel febbraio dell'anno successivo viene proclamata la Repubblica Romana. A capo delle truppe irregolari preposte alla difesa di Roma in questo esperimento c'è un tale, da poco ritornato dal Sud America, che si chiama Giuseppe Garibaldi. L'esperimento rivoluzionario della Repubblica Romana però riesce a sopravvivere giusto per qualche mese perché a giugno le truppe di Napoleone III arrivano in aiuto dei papalini, vincono la resistenza in pochissimo tempo e il 3 luglio Pio IX è di nuovo nell'urbe. Intanto il generale Giuseppe Garibaldi raccoglie le sue truppe, meno di 5.000 uomini, con l'obiettivo di risalire la penisola italiana per raggiungere Venezia, che ancora resisteva agli austriaci. Dopo settimane di marcia forzata con francesi e austriaci alle Calcagna, il 29 luglio Garibaldi e i suoi uomini arrivano alle porte di San Marino. Il generale invia un messaggero, Ugo Bassi, per chiedere il permesso di transitare attraverso la Repubblica, ma la reggenza rifiuta temendo che il passaggio delle truppe potesse mettere in pericolo il piccolo Stato. Garibaldi a questo punto viene invitato ad aggirare il territorio sanmarinese, ma nonostante il rifiuto, Giuseppe Garibaldi rinnova la sua richiesta il giorno seguente, ottenendo però di nuovo la stessa risposta. Tuttavia i sanmarinesi confermano il loro rispetto per i profughi e anche per i bisognosi, garantendo assistenza a patto che le truppe restino fuori dai confini. Resteranno fuori dai confini? Assolutamente no, perché il 31 luglio la situazione è follemente critica. Accerchiati dalle truppe austriache, i garibaldini sono costretti a varcare il confine e a sistemarsi a ridosso delle mura cittadine di San Marino. Garibaldi si reca immediatamente a colloquio con la reggenza per spiegare la necessità di attraversare il territorio. Il reggente Belzoppi, parlando anche per conto del collega che era Pier Matteo Berti, garantisce l'ospitalità ma ammonisce Garibaldi alla cautela massima. Belzoppi non vuole pericoli per i suoi concittadini. Con l'esercito austriaco che ormai cinge da sedio San Marino, Garibaldi decide, proprio nella nostra piccola repubblica, di sciogliere le sue truppe, riconoscendo l'inutilità di continuare a schierare le sue truppe contro una forza che era infinitamente superiore. Questo segna l'inizio di un difficile passaggio negoziale per le autorità sanmarinesi che sono chiamate a gestire una delicatissima situazione diplomatica con l'impero austriaco. A questo punto entra in scena il Belzoppi, avvocato laureato all'università di Perugia, che aveva già dimostrato il suo talento negoziale nei precedenti trattati con lo Stato Pontificio, ovviamente dopo essere stato catturato e tenuto prigioniero per sei mesi, come abbiamo detto. Ora si trova di fronte alla sfida di negoziare con una grandissima potenza l'impero austriaco. La trattativa porta alla conclusione che le armate austriache non avrebbero attaccato San Marino se, e solo se, i garibaldini fossero stati sciolti e se i singoli soldati esenti da reati fossero stati accompagnati in gruppetti ai loro domicili d'origine. Per Garibaldi invece e sua moglie Anita, che era al seguito, gli austriaci chiesero l'esilio oltreoceano. Tutto bene quel che finisce bene? No, perché Garibaldi rifiuta categoricamente la strada dell'esilio e in una notte di tensione e strategia Garibaldi, Anita e un gruppetto degli uomini più fidati decidono di fuggire. Con l'aiuto di sanmarinesi coraggiosi, tra cui Nicola Zani, Lorenzo Simoncini e Francesco della Balda, riuscirono a lasciare il territorio sanmarinese grazie alla guida di questi uomini, esperti conoscitori dei sentieri e delle macchie del monte Titano. Al generale, alla moglie e ai Garibaldini vennero dati degli abiti per camuffarsi e così riuscirono ad abbandonare il territorio di San Marino. Il destino più triste fu quello di Anita, che tra l'altro era incinta. La poveretta era già davvero in condizioni pessime al suo arrivo sul Titano, forse ammalata di malaria o di tifo e sicuramente gravata da una vita folle per una futura madre. Morirà pochi giorni dopo, il 4 agosto, a Ravenna. C'è però un aneddoto su Anita che vale la pena ricordare. Infatti al Museo di Stato di San Marino conserviamo veramente un pezzo da 90. Un suo vestito, un vestito di Anita Garibaldi scambiato con una sanmarinese, proprio nel giorno della fuga. Ora vi racconto la storia. Nell'archivio di Stato è conservato un atto notarile redatto dall'avvocato Giovanni Belluzzi, basato su testimonianze oculari che descrivono dettagliatamente come avvenne la consegna del vestito da parte della coraggiosa compagna di Garibaldi. Prima di essere donato al museo, il vestito fu costituito per molti anni dalla famiglia Novillari, che era una famiglia residente a Borgo Maggiore. L'avvocato Telemaco Martelli, sposato con una delle figlie dei Novillari, volle che questo prezioso cimeglio andasse ad arricchire la straordinaria collezione di oggetti appartenuti al corpo garibaldino che era stato disciolto. La testimonianza di Lorenzo Simoncini, che è una delle guide che ha aiutato Garibaldi, era il proprietario del caffè dove Anita e Ugo Bassi trovarono accoglienza, riporta vividamente il tragico momento in cui Garibaldi, rifiutando la resa, si prepara a lasciare il territorio della Repubblica. Vi riporto il testo integrale della testimonianza di Simoncini, lo parafraso un pochettino. Il mattino del 31 luglio 1849, quando il generale ormai accerchiato dalle truppe austriache si rifugiò in questa Repubblica, si accampò fuori dalla porta della città, lasciando la sua povera moglie, molto malata, sotto la loggia del convento dei Cappuccini, fuori dalle mura. Avvertito da un ufficiale di Garibaldi, io mandai mio figlio Lodovico a prenderla. Venne a casa mia, dove mia moglie, Giuditta Nannini, le preparò un letto per farla riposare dalle tante fatiche e le prestò ogni sorta di cure. Quando Garibaldi, rifiutando la resa, decise di lasciare questo territorio, Anita volle indossare un vestito da contadina, per non essere riconosciuta dai nemici. Non avendo forse denaro per comprarlo, consegnò a mia moglie Giuditta una gonna di seta nera, affinché la scambiasse con un vestito più semplice. Mia moglie si recò a Borgo Maggiore, nel negozio di tessuti gestito dalla signora Cecchetti in Simoncini. La Cecchetti, dietro consegna della gonna, le die del vestito richiesto e un paio di scarpe. Tornò quindi in città con Maria Mancini, domestica della signora Cecchetti. Ci tenevo particolarmente a raccontare questo aneddoto perché è veramente simbolico del momento storico. Ovviamente la scoperta della fuga del Garibaldi provocò poi una reazione immediata, duplice, perché se fuori confine gli austriaci gridarono rabbiosi alla complicità sanmarinese, all'interno del Titano una parte degli ormai ex Garibaldini si sentì tradita dal loro generale. La situazione di tensione comunque venne risolta, va detto, con maestria e in maniera molto celere dalla politica sanmarinese. I Garibaldini rimasti sul territorio consegnarono le loro armi e entro un paio di giorni abbandonarono il territorio del Titano, fatto che fece calmare non poco i soldati austriaci. Anche se, come vedremo, le tensioni non sono di certo terminate e anzi si prospettano tempi davvero complicati per il popolo del Titano. Anche perché in realtà questa vicenda delle armi dei rifugiati continuerà a dare diversi grattacapi negli anni a venire. Ma il proseguo di questa storia merita di essere approfondito con le tempistiche corrette e io oggi non voglio assolutamente abusare della vostra pazienza. Ci fermiamo qua, ma a breve, state sereni, riprenderemo le redini dei discorsi. Io intanto vi ringrazio di cuore per l'ascolto, vi invito a condividere il podcast con il vostro parentado, con le vostre amicizie, oltre a iscrivervi chiaramente al nostro canale. È davvero un modo meraviglioso per supportare questo folle progetto divulgativo. Dunque, ancora davvero grazie e fino alla prossima. Saluti! Storia in Flanella è un podcast di Giuseppe Giardi. L'intera stagione sulla storia sanmarinese è in collaborazione con gli istituti culturali di San Marino. Le riprese, il montaggio video e il lavoro grafico sono di Luca Zucchi. Il lavoro di ricerca sulle fonti è di Giuseppe Giardi e Marco Bernucci. I testi sono di Giuseppe Giardi. Tutta la redazione di Storia in Flanella ti ringrazia per l'ascolto e fino alla prossima. Saluti! Grazie!